VAMOS! Ed eccoci qui salve per un'altra ricetta. Cosa andremo a preparare? I biscotti. Metà col cacao e metà con le mele. Si può anche scegliere di farle all'arancia, al limone, proprio tutti si può fare, con le gocce di cioccolato. Quindi è un impasto base che poi si può personalizzare secondo i gusti. Io sto mettendo comunque sia al posto dell'arancia la scolta del limone. Perfetto. Andiamo a cliccare gli ingredienti. Perfetto. 350 grammi di farina. Con una bustina di lievito. Io non ho messo mezzo perché una non la levo. Ok. 150 grammi di zucchero e due uova. Yes. 100 ml olio di semi, un pizzico di sale e scolta o dell'arancia o del limone. Poi ho messo metà mela e il cacao amaro. Andiamo a fare il procedimento. Allora dobbiamo sbattere le uova con lo zucchero. Questi sono senza burro e senza latte. Come sempre per le ricette che fa mia sorella, adatte per gli intolleranti al latte e al lattosio. E anche per chi, diciamo così, è a dieta e vuole rimanere più leggero, mangiando qualcosa di più light. Successivamente ne andiamo ad aggiungere l'olio poco per volta a filo. Quindi prima gli da una mescolatina leggera alle uova. Non le fa diventare sfumose, diciamo, chiare. Perché alla fin fine non stiamo andando a fare una torta, ma stiamo andando a preparare dei biscotti. Poi andiamo ad aggiungere la farina setacciata con il lievito. sempre, poco per volta, andiamo mescolando. E vedremo che piano piano cambierà consistenza. Diventerà un panetto. Nello stesso momento aggiungiamo un pizzico di sale. Prima aggiungiamo la scorza del limone che andrà a profumare. Al posto della scorza del limone puoi utilizzare scorza d'arancia, aroma all'arancia, aroma alla vaniglia, oppure l'aroma che preferisci, insomma. Allora, questo è il composto. Lo dividiamo il panetto a metà. Ok. Bellissimo. Bellissimo davvero. Mia sorella ha realizzato una purea frullando semplicemente le mele con un pochino d'acqua. Poi facciamo, come dice sempre mia sorella, un bocchetto al centro. Ecco. E aggiungiamo la purea. La purea. E lo lavoriamo. Adesso tanti attacchi. Mettiti là, mettiti là, mettiti qua che ti cada. Scendiamo la prima a metà tra due foglie di cattaforna. Abbiamo una tazzina. Sì. O comunque una formina. E andiamo a coffare i nostri biscotti. Allora, sotto consiglio di mia sorella. Sì. Aggiungo la purea, mia avanzata. Perfetto. E la spanna di sotto. E viene tipo una glassa. Poi si devono infornare a 180 gradi per 15 minuti. Ok. Ripiano centrale del forno. E forno preriscaldato. Nell'altra parte dell'impasto, metà, io aggiungo ad occhio con un cucchiaino il cacao. Come ne voglio cacao? Sì. Guarda che bellissimo impasto panetto ha ottenuto mia sorella. E adesso stessa cosa. Va a stendere, poi con formina ed infornare. Ehi mamma. Sta facendo l'assaggio mia madre. Guarda che è buonissima. Complimenti.